premiazione duecento stile libero assoluti femmine medaglia di bronzo Irene De Biase como nuoto argento Elena Piantoni gam team medaglia d'oro Eleonora Brotto team Veneto per la sesta serie junior maschi cento stile libero alla due Luca Uberti alla tre Federico Parma quattro Cristian Taglioni cinque Andrea Duina sette Mattia Zani otto Matteo Scattolin che gareggia per la categoria ragazzi assente alla uno tramontano alla sei Baratti Stefano Nicetto va a chiudere in cinquantuno e quarantotto non lontano